Si sono dati appuntamento in via Rio de Janeiro, nel quartiere Scavone, a Gela, nei pressi dell'isola ecologica. Loro sono il sindaco di Gela, Domenico Messinese, il suo vice, Simone Siciliano, e il segretario della CGL, Ignazio Giudice. Proprio l'esponente sindacale, ieri, aveva bacchettato l'amministrazione, sottolineando che nella normalità serve un po' di logica che chi amministra dovrebbe possedere e quindi usare. Il giudice aveva riferito che la raccolta differenziata è giusto farla, adoperarsi per migliorarla, sanzionare chi non la fa. Ma aveva anche riferito che il kit, il grande assente, questa star che dovrebbe arrivare ma non arriva, non è normale non consegnarlo prima della rimodulazione. Ieri ho incontrato personalmente il proprietario della Tecra e anche il vice sindaco siciliano che mi hanno promesso e quindi l'hanno promesso alla città e ai cittadini che la differenziata diventerà un progetto culturale a quale tutti dobbiamo credere, ma i cittadini devono essere messi in condizione di differenziare avendo il kit. Non può il Comune addirittura elevare le sanzioni a 125 euro a chi non fa la differenziata senza dotare tutte le famiglie gelese di kit. E siccome i kit indagamente arriveranno tra settembre e ottobre, la CGL ha chiesto che in questo momento nessuna multa venga levata ai cittadini. Sarebbe veramente una ingoerenza istituzionale che credo nessuno con un po' di buon senso e umiltà si può permettere. Noi crediamo che il cambiamento è possibile e noi crediamo anche che la maggioranza dei cittadini è pronto a differenziare. Quella minoranza che vuole invece vivere l'ingiviltà va rieducata, va convinta che l'ambiente è di tutti e quindi va solo guardato. Stiamo giustamente verificando come sta andando la distribuzione sia dei contenitori per il vetro, che è uno strumento necessario proprio per consentire la sicurezza come viene conferito questo materiale, ma anche la distribuzione dei sacchetti e dei volantini che spiegano come poter fare la raccolta differenziata. Perché l'informazione credo sia la cosa più importante, non vogliamo fare gli sbagli che hanno fatto precedentemente, dove dall'oggi al domani si cambia tutto. In realtà noi abbiamo messo già notate che era l'8 agosto, l'avevamo annunciato già da due settimane, ci sono queste altre settimane fino a dopo a ferragosto per cominciare le persone ad avere le risposte per i propri dubbi. Sono sicuro che tutti insieme riusciremo a migliorare il servizio e dare più decoro alla città.